perfetto, vi volevamo far vedere questo momento particolare il gank migliore della storia questo qua è stato il momento iniziale migliore della storia di Dota 2 allora aspettate, c'è la prospettiva giocatore si si c'è c'è c'è, non stai cliccando tu ah lo shop ce l'ha aperto proprio Yoshi si si è lui che... guardatevela ok, questa qua è la prospettiva del nostro mitico Yoshi stavamo dicendo, lo vedete quello giallo? che sarebbe Kunkka? lo vediamo sarebbe ancora meglio fare la prospettiva di Kunkka vero lui era abbastanza sicuro di se stesso lui voleva la runa a tutti i costi con la sua bella bandana si si, stava là davanti non aveva paura cosa vuol fare tanto? io lanciavo il missile vissi vogliono essere aggressivi tanto se vedete voi dalla mappa noi scendiamo come quei cavalli come la peste mera come quei film d'azione o di avventura medievali dove si vedono le mappe che vengono coperte dal fuoco guarda 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 la chiusura perché stavamo dicendo lui era sicurissimo noi ci andiamo tutti da un lato chiudiamolo qua è stato bravo Petar che con l'earth shaker guarda lui viene avanti qua lui viene dalla runa ma ha già capito che marca male e poi viene bloccato tutti dai diamoci dai dai homos homos e qua tutti a ridere tra l'altro a ridere proprio dei pazzi abbiamo riso per 20 minuti ma veramente perché lui io direi di riprendere ancora i suoi scleri di merda era rancorosissimo lui lui questa se l'hai presa tantissimo lui per 10 minuti è andato avanti agli insulti homos homos loro sono uomini si 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 no sono homos vuol dire loro sono omosessuali ci dava dei froci homos homos e poi continua fucking noobs si si lui qua ha dato di matto poi noi abbiamo giocato a normale non è che avevamo fatto i cazzoni qua solite scritte per dargli i suoi nervi fucking retardi fuck noobs dai si si lui era era rancorosissimo ma nel frattempo aveva perso troppi soldi lui nel frattempo grassi risate noi ridevamo da matti ma noi ridevamo veramente qua ma tantissimo abbiamo rito ma il skillet faccio a frettare qua io ero piegato no non ho sindrome più peale people praticamente ci ha dato dei down come on ma poi con sto cunca come on lui come on faccia avanti louder qua cioè ricordiamo che cunca comunque è stato proprio il più deficiente della partita i can come to you and kill you you want che deficiente i can to fiorate and then i fucking taglia la testa e te la scopo cioè te ne ricordo che rabbia ah non l'avevo letta io quella della skybrat cosa ha scritto se lo fa io distruggo il mio pc lo odiava lo skybrat gli dava addosso ci difendeva vabbè dai basta allora no subito si erano già riprese non ha senso però fa ridere dai ciao